Eccan... No! No! Che urto di nervi! Sì, forse questa è stata una delle reazioni più strane a un'esplosione di creeper che io avessi mai avuto, vi giuro. Battaglia è ferita, vince! Incredibile! Ha vinto il villager! Ha vinto il villager di nuovo! Esatto, oggi andiamo ad addestrare villager, porca miseria. Se vi chiedete come sia possibile che un villager abbia ucciso uno zombie, beh sì, si può fare, ci siamo riusciti. Abbiamo addestrato i nostri villager a combattere e combatteranno fino alla fine. Eccezionale, vi giuro. Oh, incredibile! C'è un meccanismo dietro, vabbè, poi comunque vi spiegherò nel video. In tutti i casi, ragazzuoli, proviamo ad arrivare a 3500 mi piace il prossimo episodio, ve lo carico XXL. Detto questo, mi raccomando, un bel mi piace e buona visione! Oh! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo di nuovo su Minecraftita, sesta stagione, perché oggi andiamo a fare un esperimento veramente, veramente figo. Vi parlo subito di quello che ho in mente di fare. Guardate un po', e uscendo da qui, ho rinchiuso nell'ultima parte... Porca troia, sono cadute, non riuscirò più a salire, quindi... Ender Pearl, se riesco a uscire... Non posso fare una figata, tipo, ci arrivo là sopra, secondo voi? No. No, direi di no. Ho preso pure la botta, ok. Saliamo in cima alla torre, perché c'è una piccola... No, vabbè, è una sorpresa del cazzo, però c'è una sorpresa. Siamo in vetta, praticamente, uuula! C'è un villager! C'è un villager! Le madonne per tirarlo su, porca miseria, guardate, non potete capire che è stato inferno proprio, totale. Vabbè, vabbè, ma non è... non sto qua per parlare di questo, tanto ce ne dobbiamo scendere. Perché oggi, come avrete letto da titolo, devo atterrare al cavoio... Hop, tipo... Lanciamo l'enderpearl, chip, e poi... L'enderpearl veloce, no, ma porca troia! Ci mette troppo, st'enderpearl. Voglio farvi vedere che è possibile, secondo me, uccidere uno zombie... Da far uccidere uno zombie da un villager, nel senso che un villager può uccidere uno zombie. È fotonica tutto ciò, è incredibile, è paranormale. Ci ho lavorato un po', e non l'ho provato, devo essere sincero, ma un'idea me la son fatta. Guardate un po' qua. Abbiamo delle armature, abbiamo Torn Set Protection, Torn Set Protection, Projectile Protection, Protection 4, ok? Questo è quello che ci servirà attualmente per il nostro amato villager. Nel senso, come abbiamo già visto, gli possiamo dare delle armature. E questo lo devo finire, lo so, avete ragione, però, certo, e ho finito i materiali. Questo pure sta lì, vabbè, piano piano lo finiremo. Comunque è carino il fatto che si possa modificare tutto. Ok, usciamo da... Ma questo mi sa che lo posso anche aprire a sto punto di passaggio. Sarebbe, invece, o ci metto una porta, qualcosa. Perché se no sempre a fare sta cosa mi dà fastidio. Vabbè, ce ne usciamo. E che vi volevo dire? Perché potrebbe essere figo l'idea di creare un esercito di villager capaci di uccidere degli zombie. Cioè, vi rendete conto il paradosso più totale? Ma, secondo me, è fattibile. Voglio fare un salto nel magazzino? Ma no, ma fa fotte e sega. Dai, così va bene. Niente, no, niente. Volevo prendere una cosa, ma ci ho ripensato. Ora, io vorrei fare un atterraggio per l'Under Pearl là sopra. Perché tutte le volte a fare sta cosa che devo salire tutte le scale mi rompo un po' i coglioni. Perché sono dieci piani. E dieci piani, guardate, sono parecchi. Se l'ho fatto sono un fenomeno. Best Ender Pearl er e U2016-2017. Riesco ad entrare da qua? Io sì, riesco ad entrare. No, l'ho perso uno. Che palle. Che palle. Mi tocca poi modificarlo. Vabbè, comunque. Abbiamo... Ehi, ma tanto non c'è cose. Non c'è dispenser. Stronzo. Eccoci qua dal nostro caro amato villager. Allora. Vorrei che tu facessi una cosa per me. Del tipo, dovrei metterti. Ma ci va? Tipo... Che rompi, cazzo, stupido. Ok, va bene lo stesso. Tac, tac, tac. 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 Perfetto. Voglio andare a vedere se sono tipo passato di sotto perché potrebbe essere. Penso di no, eh. Devo essere sincero, l'ha presa lui, l'ha presa sicuramente. Ok, l'ha presa lui. Perfetto. Quindi se noi gli diamo un pugno, in teoria dovrebbe farci male. Sì! Che figo! Ok, funziona. Più o meno funziona. Non cantiamo vittoria troppo presto. Adesso. Quello che dobbiamo fare è attirare un villager. Sì, uno zombie qua sopra. Ci vorrà un po' far salire il zombie qua sopra, è per carità. Basta che non viena anche un creeper perché... Oddio, mi darebbe un po' fastidio. Lasciamo le porte aperte. Uno zombie e poi facciamo fight. Detto fatto, guardate un po' che c'è qui. Un mister creeper, proprio appena girato all'angolo, grazie. Oh, creeperozzo, oh, creeperozzo, oh, creeperozzo. Uno zombie. Cioè ce ne sono appalate a migliaia. Vai in giro, ovviamente ti serve uno zombie e non troverai mai uno zombie. Adesso non so se i villager recuperano la vita. Palli di idea. Via. Nel canale. Però... Non lo so, di te me lo voglio. In tutti i casi, volevo... Lì c'è una strega, ma c'è gente. Volevo andare a vedere un attimo quanto avevamo prodotto perché non ci posso mai. E son curioso, devo essere sincero. Vediamo un po', vediamo un po'. No, qua sotto. Ne, ne, ne. Produ... No, per carità, per produrre produce, però secondo me potevamo far di meglio. Ok, tu muori male. Vai di sotto, vai di sotto, vai di sotto. Bravissima, cadi. Perfetto. Zombie, trovato. Andiamo. E ma dobbiamo fare un giro della madonna. Ok, l'orda di zombie l'ho trovata. Purtroppo mi dà un fastidio. Ecco. No! No! Che urto di nervi! Che urto! Poi mi suona tutte le cose insieme. Che palle! Che teste di cazzo! Ma veramente, che palle! Perché tankano? Arrivano qui e iniziano a tankare il coso. Ma porca troia! Oh, incredibile! È incredibile come non mi tankano. Guardate, mi tankano. Ok? Adesso io decido. E poi, porca troia, mi tankano. È una cosa mostruosa questa. È da non credere, vi giuro. Era la porta che gli dà. Ma vi rendete conto che gli dà fastidio la porta? Una cosa particolarissima. Senti, chiudiamo un attimo. E adesso li invitiamo a salire. Ci siamo ragazzi, eh? Pronti? Vieni qua dentro. Vai a tankare lui. Tanka 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 lui. Ok, adesso lui non tankerà più me. E inizierà a massacrare il villager, giusto? Madonna, l'ansia sto coso, veramente. Non devi tankare me. Devi massacrare il villager. Ok? Lui. Ce la devi avere con lui. Non te la prendi con lui. Tanka lui. Bravissimo. Lui deve attaccare. Cristo santo. Ma veramente non lo attacca? Perché una volta che ha tankato me, deve stancarmi. Ok, ce l'ho fatta, ma tipo 30 secondi. È durato 30 secondi. Vi giuro è durato 30 secondi. Non so se si è visto. L'ha massacrato proprio. L'ha distrutto. L'ha finito. Mostruoso. Torrance è un grande incantasino. Io me l'avevo tolta perché sennò gli facevo danno. E ho perso anche gli stivaletti, cazzo. La seconda cosa che perdo. Se io non prendo mai ending, ragazzi. Male, male. Cazzo, che spettacolo. Ma continuano ad arrivare messaggi in continuazione. Ok, sistemato quel coso. Voglio andare a vedere. Hey, guys. Andiamo un po' di qua a vedere il casino che hanno combinato. Non ho ben manco tanto. Pensavo peggio. Quanto è una zona pianeggiante. È easy. Ok. Che stronzi i creeper. Mi stanno veramente sui coglioni. Non li sopporto. Sono persone inutili. Sono persone bruttissime i creeper. Ok. Non ho terra neanche da utilizzare. Ma però, fanculo. Ecco, questo era un piccolo trucco su come i villager possono uccidere gli zombie. Veramente mostruoso. Adesso riportare un altro zombie su, devo essere sincero, mi sa, molta fatica. Però ci provo. Vediamo, facciamo il secondo round. Qui riapriamo. Ok. L'ha già tancato, il che è meraviglioso. Io devo soltanto aprirgli la porta. Vediamo un po'. Guardate. Easy. Vai. T'ho messo dentro. Il villager scappa. Ma non sa che ha più potenzione. Devi tancare lui. Devi tancare. Guarda. Guarda. Guarda chi c'è. Ah ah. Ah ah. Perché prima l'avevi tancato. Tancalo di nuovo. Eccolo qua. Eccolo qua. Lo sta uccidendo. Allora, vediamo un po', eh. Ci stiamo godendo la scena. E ritanca me. Cristo santo. Perché mi tancami? Qual è il tuo problema principale? Perché mi fai questo? Perché tanchi me? Devi tancare lui. Lui. Mi sciacco dai, dai gabbasisi. Tutto non mi puoi più vedere. Cioè sono dietro. Eccolo qua. Guardate un po', eh. Aspettate, aspettate, aspettate. Ha preso danno anche lo zombie. Stanno prendendo danno tutte e due. No, 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 non venire qua perché tancami poi. Ancora. Ho preso danno anche lo zombie. È una lotta all'ultimo sangue. Vediamo chi vincerà. Vediamo chi vincerà. Aspettate, ancora. Altra battaglia. Questa è Goku e Vegeta di spicciano casa. Go, sì, gogete gli Sherron. Questa è una battaglia. È ferita, vince. Incredibile. Ha vinto il villager. Ha vinto il villager di nuovo. Che spettacolo. Villager, sei una bestia. Hai ucciso due zombie. Sono veramente fiero di te. Sarai l'addestratore del nostro prossimo esercito di villager. Vi giuro, non sembra vero. Adesso devo studiare. Devo capire se i villager possono riprendere vita. Perché questo già mi permetterebbe davvero di fare un esercito. Ora, Thorns. Ecco, è un problema. Come trovi tutti gli incantesimi di Thorns? Io non lo so. Cioè, dovresti fare farm di XP su farm di XP. Però poi anche questi finiscono con un pochette di farmi. Quanti ti pare? Però non è proprio facilissimo e alla mano. Sarà un po' complicato. Devo pensare alla mia armatura più che altro perché si è spaccata male. Si è spaccata male. Esatto. Ragazzuoli, datemi anche qualche consiglio così veloce sui prossimi progetti. Perché è vero, ho abbandonato un po' il peroggetto della casa degli iscritti. Però non è... Ci siamo... Sono pochi. Dobbiamo aggiungere qualcuno. Esatto. Quindi, mia idea è proprio aggiungere altre persone. Quindi, mi raccomando, se avete qualche bella idea, fatemela sapere tramite un commento. Ragazzuoli, per questo video è tutto. Vi ringrazio tantissimo per la visione. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto. Di iscrivervi al canale se avete fatto di condividere il video su Facebook e fammi lasciare le persone. Mi raccomando, passate in tutti i link in descrizione. Facebook, Instagram e Telegram e noi ci vediamo come al solito. A un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.